Siamo quasi a tre stipendi indietro, marzo aprile, ora ci sarà anche maggio, però stipendi che non ci pagherà certo la casa madre, sicuramente andranno all'Inps, però quando, come, perché, insomma la procedura è lunga. Sono preoccupati i lavoratori della CERN, azienda che ha la casa madre in Svizzera ma due stabilimenti in Italia, uno a Sansepolcro con 35 dipendenti, l'altro ad Assago con 15. A causa di un'importante esposizione debitoria, mercoledì scorso la decisione di portare i libri in tribunale. Un'esposizione verso l'erario dello Stato abbastanza importante, ecco, siamo sull'ordine dei 4 milioni. Dopo la manifestazione di fronte all'azienda, oggi una riunione presso il comune di Sansepolcro a cui hanno partecipato la CGL, il sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli e i consulenti legali dell'azienda per trovare una soluzione. Se questa azienda comunque potesse, può vantare un portafoglio ordini clienti, provare l'apertura di una fase di una cassa integrazione per riorganizzazione. Magari con, legata a questo percorso di cassa, anche una procedura di mobilità per quelle figure che potrebbero essere, diciamo, non strutturali e che si potrebbero avvicinare a maturare requisiti pensionistici, sempre con il criterio della non opposizione perché per noi l'importante è che ci sia come della consapevolezza e la non opposizione a un eventuale licenziamento in modo da vedere se una azienda, una nuova azienda dalla costola della Kern possa rinascere. In una situazione, tornare a ripetere, però è molto, molto difficile. Tra le ipotesi c'è anche la costituzione di una nuova società che potrebbe prendere in affitto un ramo d'azienda, sul fronte occupazionale però il prezzo sarebbe alto. Un prezzo da pagare notevole perché si parla oggi per lo stabilimento di Sansepolcro di circa 8-9 persone sulle attuali 32-33. Ecco, quindi una situazione ancora più grave di quella che si presagiva all'iniziativa e abbiamo fatto un'organizzazione sindale la settimana passata.